buongiorno ancora una volta e verdi e non è giovedì e quindi ho trasgredito anche oggi ma oggi faccio una doppia trasgressione non leggo ho già letto le mail del mio dottore ma in grosso modo ripetevano temi in modo diverso ma era più o meno lo stesso tema cioè delle delle relazioni tossiche che ultimamente sta creando dei grossi guai allora siccome mi trovo a doversi mi incontro come spesso mi incontro con situazioni dolorosissime ho fatto già diversi video su un tema estremamente doloroso che fa parte delle relazioni tossiche forse la relazione più tossica di tutte le relazioni tossiche che impegna seriamente uno psicoterapeuta impegna anche me seriamente fino a farmi ogni tanto dubitare della bontà del mio modo di vedere la vita e di vedere l'uomo perché è una di quelle psicoterapie più ostiche da usare dove ci troviamo di fronte a delle profonde resistenze da parte dei diretti interessati di che sto parlando ma nella gelosia tutte le volte che parlo della gelosia faccio sempre questo preambolo che è una cosa andate a vedere tutti i video che ho fatto questo preambolo è di tutti i video e che cioè è una delle psicoterapie più rognose da affrontare e per uno che ha come obiettivo risolvere i problemi anche in fretta perché forse uno dei miei problemi è quello di voler fare in fretta beh questo questa problematica rallenta non ho voglia di stare di guadagnare soldi perdendo tempo ma purtroppo è una cosa che mi fa perdere tempo per forza uno dei modi vincenti per risolvere il problema della gelosia e dare un consiglio immorale ma spiritualmente corretto che è quello che se hai una sola donna e se è geloso di quella donna cercatene un altro perché forse in questo modo può diventare può cominciare a capire minimo esce dal dolore che poi crea un terribile cortocircuito se sei talmente affranto addolorato e si soffre seriamente al punto che la mente invece di pensare al problema o al desiderio che volevi volevi sapere se l'altro ti amava o no come fare per saperlo pur sapendo di non essere onnisciente perché poi il nodo di questa questione questa qui si tende a eliminare immediatamente il dolore potente fortissimo che abbiamo perché quando in questo campo quando ci sentiamo traditi abbandonati delusi noi soffriamo soffriamo come il bambino piccolo che subisce l'allontanamento dal seno della madre e non ritrova più il suo seno che l'ha reso felice è come se qualcosa che mi ha reso felice un paradiso l'ho perso e lo ricerco in tutti i modi l'ostinazione infatti che vedo in chiunque geloso sia maschio che femmina è l'ostinazione a fare le stesse cose come se io sapessi che quel paradiso lì quella cosa l'ho già avuto e penso che la posso riavere dato che l'ho avuto e so anche come deve essere in che modo lo devo avere per cui non mi accontento dei palliativi infatti si fa una certa resistenza per molti ad accettare il mio consiglio immorale perché non è proprio il paradiso che si va cercando e sappiamo se perdiamo un paradiso noi cerchiamo le caratteristiche di quel paradiso e non potendolo ritrovare ma volendolo nello stesso modo si è sordi a qualunque consiglio si è sordi a qualunque che può la fin fine l'unico consiglio che si può dare o stare a denigrare la persona che non ci dà il paradiso dire che è uno stronzo che è un vecino che è inutile che te lo tieni però sarà difficile abbandonare quella situazione per alcuni magari lo svezzamento dal seno è stato fatto per benino la fase successiva hanno imparato il coraggio e quindi a fare che cosa morto un papa se ne fa un altro alla fine devo cambiare questo tipo di filosofia va bene ho trovato un paradiso lo voglio me lo voglio mantenere questa è la tendenza di qualunque essere animale qualunque mammifero tende a questo ma l'uomo che può fare ipotesi che riguarda nel futuro ma mentre il mammifero non sbaglia su questo e per tentative di errore in tutti i modi va cercando il suo paradiso al limite non lo trova e si accuccia e poi il corpo chiede alla testa di quel mammifero prendiamo un altro paradiso la testa non ricordando non si oppone ma noi possiamo opporci è solo quel paradiso che vogliamo non un altro perché quello è il paradiso che ci ha reso felice ecco l'ostinazione è il semplice consiglio che qualunque amico qualunque troppo amico anzi troppo amico qualche volta può aiutare moltissimo un geloso una gelosa perché in qualche modo gli offre un furrogato di paradiso è il geloso la gelosa può cominciare anche a ragionare dire va bene dobbiamo andarci a cercare un altro paradiso che si adegui a che possa colmare questo bisogno che abbiamo direi che solo seguendo anche forzatamente oppure perché abbiamo trovato un trompamico che ci aiuta in questo potremmo effettivamente andare a cercare un altro paradiso per essere felici perché il problema è la felicità e la felicità è semplicemente colmare un bisogno con qualcosa che abbiamo scoperto che colmi il nostro bisogno sarebbe facile morto un papa se ne fa un altro c'è un bisogno e quello che colmare il bisogno non c'è più andiamo a trovare un'altra cosa è facile sulla carta sì perché diventa tanto difficile è perché abbiamo già sperimentato infatti la resistenza che trovo a fare la cosa più semplice del mondo e che la maggior parte delle persone sanno fare ma il geloso non sa fare soffrendo le pene dell'inferno e che il geloso ha già sperimentato questo paradiso ed è stato un paradiso straordinario e vuol ripetere in tutte le sue relazioni cerca questo paradiso un paradiso in cui uno sa sa che l'altro c'è e che l'altro soddisfa il mio bisogno l'ho già sperimentato solo che non sono rimasto animale mi hanno buttato fuori da questo paradiso quando ero ancora animale non da grande ma quando ero ancora animale e sono rimasto alla ricerca di questo paradiso che so come deve essere perché io posso essere felice ma quando sono stato felice era un piccolo animalino che avevo un contatto sensoriale aderente con qualcosa che era fuori di me e che colmava il bisogno del corpo questo è stato il mio paradiso perduto gli animali non perdono mai questo contatto diretto e questa finalità diretta con ciò che è esterno dove a un certo punto la perdiamo a un certo punto cominciamo con le memorie a ricordare e a desiderare ciò che è stato bene ciò che è stato male e ci tocca camminare su un campo incerto però per le finalità dell'uomo delle caratteristiche di questi 10 miliardi di cello che devono diventare piloti della macchina mentale animale mammifera che abbiamo beh l'uomo deve fare come il seme di senape deve prima morire cioè la sua desiderio quello quel suo paradiso che la reso felice deve morire a livello di funzione umana deve essere ricercata ma morire deve essere data per morta per finita e per poter cercare qualche cos'altro che possa rassomigliare o per trovare qualcosa di uguale a quello che abbiamo perduto lo dobbiamo prima perdere per poterlo ritrovare è questa cosa per noi è difficile anche se nella chiesa cattolica a pasqua non quella di bergoglio a pasqua si celebra che cosa la passione la nostra passione è ritrovare il paradiso perduto questa è la nostra autentica passione però per ritrovarlo a livello di funzione umana la dobbiamo perdere perché non siamo e com'è che dobbiamo perdere e questo l'apice dello spirito questo è il regno dello spirito la mente umana sa che per poter ritrovare quello che ha perso deve momentaneamente agire come se non ce l'ho più agire nell'ignoto verso l'ignoto alla ricerca di qualcosa che ho perso come la storia del santo cralle e ci sono un sacco di storie che ci dicono quello che dobbiamo fare per ritrovare i paradisi perduti il geloso soffre per un paradiso che non riesce a ritrovare nessun modo che lo cerca ma lo cerca col cervello che ha dando per scontato sì col cervello che ha ma da per scontato che questo cervello possa vedere correttamente quello che va cercando e che quindi vedendo correttamente possa colmare di nuovo un bisogno ormai che non è più possibile colmare ma che lo si può colmare solo indirettamente solo perdendolo e quindi ci troviamo di fronte a quello che il problema grosso dell'uomo e la funzione umana che deve imparare è un paradiso e cioè il vero fine della nostra vita da uomini cioè che la nostra mente umana impara a guidare la sua macchina mentale ottenere ciò che vuole ciò che desidera addirittura può orientare i nostri sensi e la nostra macchina mentale a cercare ciò che gli serve al punto tale che la nostra macchina mentale può diventare creativa può cercare un paradiso perduto e nell'orientare i cinque sensi alla ricerca di questo paradiso perduto scartando tutto ciò che non può dargli automaticamente scarta ciò che non mi porta al paradiso perduto è come avere un cervello artificiale della tesla che una volta direzionato mi porta a Roma scartando tutte le altre strade che non mi portano a Roma ma il pilota di questa macchina deve diventare consapevole del fatto che non ha alternativa alla speranza e questa passione può essere mantenuta questa direzione deve essere mantenuta la funzione umana deve capire che l'unica strada che può avere per ritrovare questo benedetto paradiso come noi siamo stati bene perciò diventa difficile per coloro che sono gelosi e soffrono di gelosia abbandonare questo paradiso che abbiamo già sperimentato per cercarne un altro e non sappiamo se lo troviamo lo vorremmo prima sapere vorremmo avere una garanzia su questo punto ma non siamo nescenti lungo sta strada troviamo alcune certezze che non ci piacciono proprio non siamo nescenti e i nostri occhi non possono vedere né leggere i pensieri degli altri quando eravamo piccini animali eravamo in presa diretta con la puppa di nostra madre la quale si ciucciava e quello che ciucciava andava direttamente nello stomaco e lo stomaco usava quello che veniva dall'esterno e ci faceva vivere e noi ci assicuravamo di vivere questo era il nostro paradiso da grandi dobbiamo pensare da grandi dobbiamo pensare le stesse cose da piccini ma da grandi e cioè che il paradiso perduto lo ritroveremo solo se la nostra funzione umana lo usa come una direzione basta e non tiene l'attenzione fissa su quella direzione perché la mente umana deve riflettere che di notte quando voglio dormire non dormo che questa è una legge e quant'è che si riesce a dormire quando non lo vogliamo più quindi il nostro paradiso lo ritroveremo quando stranamente la nostra mente umana non lo vuole più ma non è stranamente perché abbiamo due menti una fa e una dici cosa fare fin quando la funzione umana va cercando il paradiso ed è attiva la funzione che lo deve trovare starà ferma questo questa è la verità che la nostra mente umana deve scoprire se non scopre questa verità non riesce a camminare su un campo incerto e malgrado la sofferenza noi saremo fracassati da una sofferenza indicibile ma non riusciremo a uscire da questa trappola qui io spero che qualcuno che mi stia ad ascoltare spero che almeno a livello di logica mi sia vera sta cosa dopo di che comincia ad abituarsi a camminare su un campo incerto dandolo per incerto non per certo rinunciando a certe certezze che potrebbero darci delle garanzie che i nostri occhi vedano ma scusate se noi stiamo sempre chiacchierà ma è possibile dato che non siamo mai d'accordo con niente fra di noi è possibile pensare che noi vediamo correttamente se vedessimo correttamente sarebbero tutti d'accordo quando è che cominciamo ad essere proprio tutti d'accordo quando alcune verità come il fatto che non sono nascente ne posso solo sperare e cominciamo a camminare su queste verità allora troviamo molte persone che possono essere d'accordo con noi e soprattutto noi stessi ritroveremo quel paradiso perduto anzi meglio saremo di nuovo felici come quando eravamo bambini e c'era un contatto diretto fra la bucca e lo stomaco che doveva essere riempito ed eravamo felici avevamo passione a cercare qualcosa che poteva colmare il nostro bisogno questa passione moriva anche perché non avevamo due cervelli moriva mentre si ciucciava si colmava mentre si ciucciava e quindi ritrovavamo il nostro paradiso ciucciando ora avendo due funzioni una dice che si deve andare a ciucciare per muovere le labbra per andare a ciucciare quella che ha detto dove andare deve fare un passo di lato dobbiamo tornare alla regola di benedetto che diceva ora ed elabora cioè prega desidera sia ambizioso ricerca pure con tutte le tue forze con tutta la tua passione il paradiso perduto ma poi occupa di altro perché se tieni attiva la tua funzione umana alla ricerca di questo paradiso perduto l'altra funzione che ci deve andare rimane ferma spero che questo concetto di mente doppia possa entrare nella mente di chi mi segue buongiorno e ricordatevi anche di scrivermi alla mia scuola di relazioni tossiche perché questa via è lungo questa strada solo anche l'esempio degli altri ci possono aiutare perché è una strada dolorosissima essendo dolorosa e proprio la nostra mente va a togliersi prima il dolore anziché cominciare a muoversi alla ricerca del paradiso perduto faremo i passi necessari per cercare il dolore non per cercare il paradiso perciò ci vuole una scuola perciò dobbiamo aiutarci che l'uno che ha imparato possa insegnare agli altri e che sia il suo esempio anzi è il mio esempio che può insegnarvi questo e l'esempio di quegli altri che già camminano possono insegnare questo se no facciamo un'enorme resistenza a fare una cosa banale buongiorno